3 agosto 2008, sono al Colle delle Finestre, in partenza per la Cima Fattiere e per partecipare al Contest Alpe Adria, VHF edizione 2008. Il Monte Pintas, le spalle della fortificazione nel Colle delle Finestre, sullo sfondo in Rocciamelone. Verso Sestrier, dietro l'antenna è il Centimplagna, appare il lago del Moncenisio, il Rocciamelone. E ritorniamo a guardare verso Torino, l'Orsiera, il Peluche e il Pelvo. Ci sono assolutamente problemi. Paolo, complimenti ancora per la tua estazione, per il tuo segnalone. Ci ascoltiamo alle prossime. Faccio qui un avanti e indietro per la frequenza, vediamo se trovo qualche altro corrispondente. Ti saluto, un abbraccio, Italia Whisky 9, CBU per Italia K1, Zuluyenki Whisky, Sperato 1.